La scuola può cambiare il mondo. Può non solo insegnare nozioni, ma anche insegnare a utilizzarle, interpretarle al meglio, facendo crescere gli studenti come cittadini. Pur rivendicando quello spazio di libertà e autonomia che sono necessari ad ogni apprendimento. È responsabile delle scelte educative, delle scelte didattiche. Può educare attraverso l'incontro con le persone e con il loro pensiero. Una scuola sostenibile che pensa alla costruzione di un futuro più giusto e più sicuro. Ed anche essere il grimaldello che scardina una volta per tutte mali atavici, quali la povertà educativa, la dispersione scolastica. La scuola ha una potenzialità enorme di incidere sulla qualità del nostro futuro e noi insegnanti dobbiamo essere consapevoli di questa enorme responsabilità. Grazie per la visione!